Salve a tutti i crononauti e bentornati su Spazi Attorcigliati. Io sono sempre Davide e ancora una volta, come ogni mercoledì, sono qui per rispondere a una domanda che mi avete posto. Questa volta ci occupiamo di bosone di Higgs, campo di Higgs, meccanismo di Higgs e del perché sto Higgs sia così importante e se ne sia parlato così tanto dopo la scoperta nel 2012 del bosone di Higgs a LHC, al CERN di Ginevra. Prima di cominciare vi ricordo, come dicevo poc'anzi, che Spazi Attorcigliati è una rubrica settimanale e che per non perdervi alcun video dovete iscrivervi al canale qua sotto e se vi va, se questa roba vi piace, aiutarmi buttandolo in giro, buttandolo sui vostri canali social, buttandolo da tutte le parti. Sono anche su Instagram, dove mando aggiornamenti quotidiani e piccole chicche d'approfondimento prima di pubblicare i video e su Telegram, dove c'è il gruppo dei crononauti, le persone che seguono il canale e che li discutono, parlano e si sentono giornalmente. È una community meravigliosa. Siete i benvenuti, noi vi accogliamo. Ora passiamo alla fisica. Il bosone di Higgs. Per chiarire di cosa si tratti, perché se ne è parlato tanto, partiamo dalla denominazione, dalla nomenclatura. Dio non c'entra niente. I giornali l'hanno chiamata particella di Dio perché la si voleva chiamare Goddamn particle, la particella maledetta che non si trovava, sembrava brutto per il male, e quindi si è chiamata God particle. Fine. Questa roba non c'entra niente. Ma l'abbiamo trovata. Ho fatto un video dedicato alla nozione di particella per spiegare di cosa si tratti. Quindi non andrò troppo nel dettaglio, ma farò sì che questo discorso sia consistente. Se siete curiosi, ve lo lascio in descrizione e potete andare a recuperare il discorso completo dopo aver finito questo video. Quello che vi do adesso vi sarà sufficiente per il resto della chiacchierata. Quando vogliamo costruire un universo, noi pigliamo uno spazio-tempo, siamo divinità, pigliamo uno spazio-tempo, ci mettiamo sopra dei campi quantistici, che sono oggetti che esistono ovunque, in ogni istante, che interagiscono tra loro, e con questi modelliamo il comportamento fondamentale ai livelli più bassi dell'universo. Tutte le strutture, tutte le particelle, non sono che eccitazioni locali dei campi quantistici. Quindi noi abbiamo un campo elettromagnetico, localmente dove c'è un po' più energia, e abbiamo dei fotoni che sono come delle punte di questo oggetto ondoso e sinuoso che esiste ovunque nello spazio e nel tempo. Quindi i fotoni sono pacchetti di energia localizzati sul campo elettromagnetico, gli elettroni sono pacchetti di energia localizzati sul campo che chiamiamo elettrone, e così via, un campo di materia. E tutte le particelle funzionano così, la teoria quantistica dei campi ci permette di fare delle predizioni sperimentali molto accurate, direi quasi le più accurate di tutta la fisica, sull'interazione tra questi pacchetti di energia localizzati sui campi quantistici, e in generale sull'interazione tra campi quantistici. Per descrivere la fisica delle particelle, quindi tutte queste interazioni, a parte la gravità, che lasciamo per un altro discorso, a che fare con lo spazio-tempo, con la relatività generale, tutt'altra roba, noi utilizziamo una robaccia che si chiama modello standard della fisica delle particelle. Il modello standard non è che uno specifico esempio di teoria quantistica dei campi, che tiene conto di tutte le interazioni, dicevo, a parte la gravità, elettrodinamica, interazione forte, interazione debole, e interazione di Higgs. Termine di Higgs nella Lagrangiana, che è quella cosa misteriosa che ci dice appunto come i campi interagiscono. Quindi il meccanismo di Higgs, ovviamente mediato dal bosone di Higgs, che è nient'altro che la particella, l'eccitazione locale del campo di Higgs, che è uno dei vari campi con cui descriviamo il mondo, è un pezzettino del modello standard della fisica delle particelle, che è il discorso più generale. In particolare il pezzettino che fa sì che i campi acquisiscano massa. In particolare, quindi in assenza di meccanismo di Higgs, tutta questa roba sarebbe priva di massa. Per raccontarvi il discorso nella sua completezza, devo fare un passetto indietro ancora una volta, e parlare di simmetrie. Le nostre teorie posseggono, in generale, delle simmetrie. Noi chiamiamo simmetria di una teoria una trasformazione che può essere applicata alla teoria senza che i risultati delle nostre misure ne vengano alterati. Quindi delle trasformazioni che possiamo applicare alle teorie senza alterare le osservazioni fisiche. Ok? Senza alterare la fisica che poi un osservatore va a misurare, a sperimentare, a osservare, eccetera, eccetera, eccetera. Banalmente una palla è un oggetto simmetrico per simmetria sferica. La possiamo ruotare e la palla è identica a se stessa. Quindi la fisica che concerne questa palla non cambia se noi la facciamo ruotare, appunto perché gode di simmetria sferica. Nelle nostre teorie più avanzate, nelle teorie di campo con cui descriviamo la fisica delle particelle, la fisica fondamentale, ci sono in generale due tipi di simmetrie. Le cosiddette simmetrie globali che vengono applicate allo stesso modo in ogni punto dello spazio-tempo come banalmente una rotazione complessiva di tutto il nostro sistema fisico e delle simmetrie un po' più sottili. Un po' più sottili che si chiamano simmetrie di gauge. Le simmetrie di gauge rispetto alle simmetrie globali possono essere attuate in modo diverso in ogni punto dello spazio-tempo. Quindi noi invece che far ruotare tutto allo stesso modo applichiamo una rotazione diversa in ogni punto dello spazio-tempo al sistema. Sono simmetrie molto più generali. Quindi è chiaro che le simmetrie globali non solo che è un caso specifico delle simmetrie di gauge. Quando prendiamo una simmetria di gauge quindi possiamo applicare una certa trasformazione in modo diverso in ogni punto dello spazio-tempo. Quindi una rotazione. Ruotiamo di un angolo diverso in ogni punto dello spazio-tempo la nostra teoria senza che cambi alcunché. I nostri cambi senza che cambi alcunché. e scegliamo di ruotare il nostro campo in ogni punto dello spazio-tempo con lo stesso angolo di rotazione ci stiamo riducendo al caso di una simmetria globale. La simmetria di gauge è più generale. Ok, ci sono anche delle congetture sul fatto che includendo la gravità tutte le simmetrie debbano essere gaugeate quindi debbano essere locali. Non possono esistere simmetrie globali. Ci sono argomenti molto forti legati alla fisica dei buchi neri ma qua stiamo entrando già in roba speculativa moderna. la lasciamo per un altro video. Questa è la No Global Symmetries Conjecture fa parte di quella robaccia che chiamiamo Swampland e così via. Ma ci limitiamo alla distinzione tra simmetrie globali e simmetrie locali. Ora, è bene che io sottolinei che le simmetrie globali sono delle vere e proprie simmetrie fisiche di un modello mentre le simmetrie locali non sono che ridondanze nella scrittura matematica di un modello quindi da un punto di vista filosofico sono due cose molto diverse che dobbiamo intendere in modo diverso. Certo, una simmetria locale può essere intesa in senso globale quando la imponiamo uguale in ogni punto però attenzione, non si tratta che di una ridondanza del nostro modello matematico del nostro modo di trattare i campi. Vuol dire che ci sono più modi diversi legati da certe trasformazioni per descrivere la stessa fisica quindi usare il termine simmetria locale può essere un po' misleading è un termine storico dovremmo parlare di ridondanza di gauge tant'è che quando dobbiamo quantizzare una teoria dobbiamo fare dei procedimenti matematici per non contare più volte la stessa situazione fisica di tutte le configurazioni che possono essere mandate le une nelle altre con trasformazioni del tipo trasformazioni di gauge quindi simmetrie locali dobbiamo sceglierne una ok, questi sono i metodi di Fatih e Popov per la quantizzazione, BRST queste sono cose un pochino complicate che generalmente vengono discusse in un corso di teoria quantistica dei campi 2 addirittura quindi non c'entramo dicevo, simmetrie globali, simmetrie locali o ridondanze locali rottura spontanea di simmetria il fatto che una teoria abbia certe simmetrie non impone necessariamente che tutte le soluzioni alle sue equazioni del moto abbiano quelle stesse simmetrie noi possiamo avere una teoria che nelle interazioni a simmetria sferica ok, quindi come una sfera possiamo scrivere le equazioni del moto per i campi di quella teoria se queste parole un po' vi confondono ancora una volta vi rimando al video sulla natura delle particelle possiamo risolvere queste equazioni e trovare delle soluzioni delle soluzioni di vuoto addirittura quelle che minimizzano l'energia quelle che la natura tende a preferire che possiamo perturbare per studiare il comportamento delle particelle che sono appunto queste perturbazioni attorno a soluzioni di vuoto che non hanno le stesse simmetrie della teoria madre che ne hanno meno che ne rompono una parte banalmente che non sono completamente simmetriche come una sfera non sono simmetriche rispetto a qualunque genere di rotazione possono avere una simmetria cilindrica quindi essere simmetriche solo rispetto a un asse ma non rispetto a qualunque rotazione quindi in questo caso stiamo riducendo la simmetria della teoria la nostra teoria è più simmetrica della specifica soluzione che andiamo a studiare questo è possibile è sconcertante la prima volta che lo si scopo ma come se una teoria ha certe simmetrie anche tutte le soluzioni alle sue equazioni del moto avranno queste simmetrie? in realtà no questa è una scoperta sconcertante però è un fatto e questo meccanismo il mettersi in una soluzione che rompe parte delle simmetrie della teoria si chiama rottura spontanea di simmetria questo è un meccanismo che esiste in materia condensata e che esiste in fisica delle particelle questo credus addirittura cioè è nato questo discorso nel contesto della materia condensata poi ci sono state pensate che il bosone di Figgs è stato teorizzato nel 1964 poi scoperto nel 2012 quindi vedete quanto di lei inizia ad esserci tra le predizioni teoriche e le scoperte sperimentali le evidenze sperimentali che suffragano le predizioni teoriche non le confermano mai e ci abbiamo fatto un video settimana scorsa che mi segue in live qualche minuto fa ok dicevo rottura spontanea di simmetria un pezzo della teoria si rompe quello che succede ce lo garantisce un teorema che si chiama teorema di Goldstone è che quando rompiamo una simmetria globale emergano delle particelle delle particelle prive di massa che si chiamano bosoni di Goldstone quando noi passiamo al caso locale al caso delle simmetrie di gauge o delle ridondanze di gauge ancora una volta le rompiamo quindi scegliamo una soluzione che rompe un pezzo di questa simmetria che non gode di tutta la simmetria ma solo di una parte quindi non ancora una volta rotazioni rispetto a qualunque asse ma magari rotazioni rispetto a uno o due assi di simmetria i bosoni di Goldstone spariscono e vengono mangiati diciamo così vengono mangiati perché di fatto stiamo rompendo una ridondanza della teoria non più una vera simmetria fisica come quella di una palla ma una simmetria nel nostro modo di scriverla quindi sarebbe strano se apparissero altre particelle e no stiamo rompendo la ridondanza quelli che dovrebbero essere bosoni di Goldstone quando noi rompiamo una simmetria globale vengono mangiati dalle particelle della teoria quindi per ogni simmetria che rompiamo se abbiamo una simmetria sferica noi abbiamo di fatto tre simmetrie tre simmetrie rotazionali rispetto a ciascun asse noi rompendo queste simmetrie generiamo un bosone di Goldstone se ne rompiamo una ne generiamo uno se ne rompiamo due ne generiamo due quando stiamo parlando di una simmetria locale questi bosoni di Goldstone vengono mangiati da altre particelle gergo così dei fisici e queste particelle acquisiscono una massa quindi rompendo cinque generatori si chiamano così se abbiamo simmetria sferica abbiamo tre generatori di rotazioni rispetto ai tre rompendo cinque generatori di simmetria globali abbiamo cinque particelle prive di massa i pioni se volete pensare a una roba fisica fisica esergono per un meccanismo simile quella non è una simmetria esatta e quindi i pioni non sono proprio privi di massa ma è una roba del genere quando rompiamo un pezzo di una ridondanza locale cinque particelle in soldoni per sommi capi cinque campi acquisiscono massa e questo è esattamente quello un fenomeno simile a quello che succede nel caso del campo di Higgs quando noi ci mettiamo in un vuoto del campo di Higgs noi rompiamo un pezzo di simmetria della teoria e delle particelle acquisiscono massa quello quello che succede la ragione per cui ciò succede è che il potenziale di Higgs non ha il suo minimo quando il campo è zero ovunque ma una serie di minimi collegati da una certa simmetria e quando scegliamo uno di questi minimi immaginate un cappello messicano immaginate un cappello messicano l'energia di questo campo quando il campo è zero siamo sulla punta del cappello quindi non siamo a energia minima e quando scendiamo nella conca del cappello ci mettiamo energia minima ma possiamo scegliere il punto in cui ci mettiamo e mentre il cappello ha simmetria rotazionale quando scegliamo in che punto metterci noi la rompiamo perché ne stiamo scegliendo uno e quindi descriviamo esattamente il meccanismo di cui parlavamo prima così le particelle della nostra teoria acquisiscono una massa in particolare la massa è data a basse energie dall'interazione con il campo di Kiggs perché il campo di Kiggs a quel punto non sarà che un'espansione perturbativa delle particelle che appaiono attorno a un vuoto che non è zero e questo nell'equazione del moto della teoria si traduce precisamente in un termine simile a un termine di massa letteralmente di massa abbiamo degli accoppiamenti delle interazioni che si chiamano interazioni di Yukawa quando ci mettiamo nell'equazione del moto ci mettiamo in questo vuoto espandiamo attorno a questo vuoto che non è zero perché appunto dicevamo siamo come in una situazione da cappello messicano i nostri campi acquisiscono massa e poi abbiamo queste particelle che sono i Higgs eccetera eccetera però il meccanismo è questo salve a tutti amici sono sempre Davide vengo dal futuro e montando il video mi sono reso conto che purtroppo a causa del mio registrare le cose a braccio c'è una questione su cui penso di essermi espresso in modo un po' confuso quindi la chiarisco una volta per tutte e evito discussioni nei commenti esistono due meccanismi attraverso cui il campo di Higgs dà massa alle particelle del modello standard il primo è quello che vi ho descritto prima quindi quando ne rompiamo una simetria globale generiamo bosoni di Goldstone quando rompiamo una ridondanza locale generiamo nuovi gradi di libertà che vengono mangiati dai bosoni di Gage mediatori delle interazioni fondamentali che quindi acquisiscono massa ha un'energia molto alta abbiamo tutti i bosoni mediatori privi di massa scendendo di energia attraversiamo la rottura spontanea di simmetria del campo di Higgs e alcuni bosoni di Gage che mediano le interazioni acquisiscono una massa perché ci sono nuovi gradi di libertà che per una simmetria globale sarebbero i bosoni di Goldstone poi esiste un secondo meccanismo quello che ha a che fare con la materia cioè il modo in cui il campo di Higgs dà massa ad esempio agli elettroni e la ragione è un po' diversa la materia è accoppiata la materia che noi osserviamo essere dotata di massa è accoppiata al campo di Higgs mediante delle interazioni che chiamiamo interazioni di Yukawa che sotto la scala della rottura spontanea di simmetria si trasformano in veri e propri termini di massa perché noi ci buttiamo dentro l'espansione del campo di Higgs torna un vuoto e otteniamo dei termini di massa per le particelle quindi il bosone o meglio il campo di Higgs dà massa ai bosoni di Gage attraverso il primo meccanismo descritto e alla materia attraverso gli accoppiamenti di Yukawa via col video io spero che il discorso sia stato chiaro so che sono argomenti complicati ma spero di lasciarvi delle suggestioni vi ringrazio per essere giunti fin qui ringrazio chi c'è stato in diretta quando abbiamo registrato questo video indifferita mi guarda commenta sarò nei commenti per rispondere ai vostri dubbi alle vostre domande ringrazio chi mi supporta su TPI e mi permette di comprare il nuovo materiale video chi condivide questa roba in giro per il web chi fa parte del canale Telegram e chi segue Spazi Attorcigliati qui su YouTube o su Instagram e vi ricordo che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa a presto crononauti